Buon Natale, facciamo la prima parte della trasmissione speciale TG, voluta dal direttore del 13 Gigi Di Meo e la prima parte e anche forse la seconda sarà dedicata alla guerra israele Hamas e faremo diverse interpretazioni per cercare di inquadrarla anche un po' in riferimento a questa situazione, cioè al fatto che siamo alla vigilia di Natale, quindi le prospettive possibili per la pace, l'applicazione del diritto internazionale umanitario, e la visione anche giuridica che potrebbe portare a qualche soluzione. Ovviamente lo facciamo in questa vigilia per cercare di dare qualche opportunità alla pace e ovviamente siamo in una prospettiva però anche realistica e sappiamo benissimo che questa prospettiva è una prospettiva molto difficile da raggiungere. Allora, come avete visto siamo partiti un orario un po' diverso dal solito e abbiamo tre tranche, quindi faremo due pause in questa trasmissione. Allora, gli argomenti quindi sono prima di tutto la guerra israele Hamas e diversi inquadramenti, vedremo l'attualità, ma poi tutte le problematiche in prospettiva della pace che possono venire dietro per certi versi. Come secondo argomento avremo la guerra Russia-Ucraina, quindi anche questa è una guerra grande, come ne parla Limes. E infine abbiamo un momento importante per l'Europa che è dato sia dal patto di stabilità e crescita, ma anche dal superamento per certi versi del veto di Orbán all'entrata dell'Ucraina nella Unione Europea. Quindi sono per certi versi momenti storici che possiamo così cercare di analizzare nella prospettiva della geopolitica, nella prospettiva delle relazioni internazionali, nella prospettiva un po' anche del diritto internazionale, ma anche del diritto pubblico. Allora iniziamo prima di tutto con la guerra israele Hamas e noi vediamo alcune chiave di lettura. Una prima chiave di lettura è l'inutilità per certi versi di una seconda tregua. Inutilità di una seconda tregua che questa è un po' l'impostazione di Israele, dall'altro lato c'è comunque una trattativa su 40 ostaggi e un po' bloccata diciamo questa prospettiva da Hamas che vuole la liberazione di molti ostaggi, di molti non ostaggi ma prigionieri delle carceri israeliane, ma questo è un problema perché abbiamo visto già anche come la liberazione addirittura di un solo ostaggio molto importante ha contribuito a creare la situazione di questo grande pogrom del 7 ottobre di quest'anno. E allora di qui anche la valutazione della liberazione di alcuni ostaggi. Ora vediamo ancora nuove perspettive e cioè il pericolo di sgombero della Palestina, quindi di un esilio di tutti i palestinesi, ne vedremo qualche valutazione anche secondo l'interpretazione di 300 avvocati francesi soprattutto, però in generale europei. Poi vedremo anche come per certi versi la soluzione di due popoli, due stati, è stata allontanata dall'atto criminale di Hamas e vedremo poi se c'è qualche possibilità nella soluzione diversa della quale quasi nessuno parla e cioè della soluzione uno stato due popoli e cioè la sovranità divisa. Sono prospettive anche dal punto di vista giuridico piuttosto difficili, però anche queste sono delle possibilità per la pace, visto che la soluzione due stati, due popoli due stati, anche essa è tendenzialmente, anche se da tutti nominata, ma praticamente forse irraggiungibili. Ovviamente la politica ha tutte le possibilità del caso, non c'è nessuna preclusione e quindi chi dice che non si può raggiungere questo obiettivo della pace attraverso anche questi strumenti ovviamente non dà alcuno spazio alla politica e questo è per certi versi inaccettabile. Dall'altro lato certo la prospettiva realista ci condanna a, come dire, togliere un po' il velo della speranza anche se siamo ovviamente alla vigilia di Natale, quindi momento anche nel quale la speranza dovrebbe avere qualche chance. Vedremo anche come l'applicazione del diritto internazionale umanitario in questa vicenda Gaza-Israele, Hamas-Israele, per certi versi non riesce ad avere alcun effetto, non riesce a creare una situazione che rende meno grave la situazione a Gaza e quindi per certi versi come quando i cannoni tuonano, quando la guerra produce i suoi effetti, il diritto purtroppo tace. Infine possiamo anche poi alla luce della situazione dell'Ucraina in Ucraina, Ucraina-Russia, Russia-Ucraina, la guerra Russia-Ucraina, potremmo cercare di trarre anche delle conclusioni in generale, anche buone per il 2024 e per certi versi sotto questo profilo sicuramente la puntata della prossima settimana sarà quella che cercherà di fare il punto proprio sulle previsioni per il 2024. Certo, sicuramente una delle situazioni nelle quali ci troviamo a dover convivere con situazioni che per certi versi possono anche non piacerci e non piacerci, è la situazione di un occidente che viene sempre più contestato dal sud globale. Il sud globale però è un modello non efficiente perché non propone per certi versi istituzioni appetibili, però sono quelle che ci sono e sotto questo profilo l'ambiguità strategica, per certi versi la capacità della Cina di non chiedere niente dal punto di vista istituzionale e offrire tutto per quanto riguarda la collaborazione economica potrebbe essere vincente per certi versi, per il futuro. Un campione di ambiguità strategica è sicuramente l'India che viene ricompreso da un lato l'Occidente pieno e dall'altro lato i BRICS sfuggenti e non solo in ambito BRICS, per certi versi l'India dispiega i suoi effetti ma rischia di avere un'ambiguità strategica per, proprio conclamata, per cercare di beneficiare di tutte le possibili opportunità che offre la situazione internazionale molto critica. Vediamo anche nello sfondo del 2024 le elezioni al Parlamento europeo, le sfide della politica estera europea, dell'allargamento, della difficoltà istituzionale di decisione. Lo vedremo nella prospettiva anche delle elezioni europee, di quello che ci sarà dopo le elezioni, cioè vedere se manterremo il vecchio rapporto tra partito popolare europeo e partito socialista sostanzialmente o se avremo un cambiamento su questo versante alla luce delle possibili vittorie di partiti di ultradestra. Altri temi all'ordine del giorno saranno sicuramente quelli della protezione dei microchips, della guerra delle nuove tecnologie, infine le regole sull'intelligenza artificiale, il dominio della crisi economica in Europa e in Italia, lo stallo della guerra in Ucraina e la possibile vittoria tendenzialmente di footing. Per non parlare della prospettiva Trump e con la prospettiva Trump certo ci vediamo in certi versi in una situazione nella quale certo non siamo tranquilli perché ovviamente da questo lato il rischio maggiore è quello di una destabilizzazione, in certi versi ulteriore dell'ordine internazionale con Trump che ha una politica estera per certi versi potremmo dire anche meno aggressiva sul versante del piano inclinato, democrazie, autocrazie, però dall'altro lato non rappresenta certo un modello appetibile se poi dopo l'elezione di Trump a fine mandato scoppiano casi come quello di Capitol Hill, cioè la contestazione delle elezioni e la contestazione di tutte le stesse istituzioni democratiche. E allora ecco adesso dopo una lunga presentazione ma abbiamo anche il secondo periodo nel quale svilupperemo questo argomento cioè quello della guerra israele Hamas e poi nella terza nella terza parte probabilmente ci dedicheremo alla guerra in Ucraina e valuteremo anche gli avanzamenti che ci sono stati istituzionali dell'Europa. Allora dicevamo adesso facciamo il focus su quello che è accaduto nella guerra israele Hamas. Prima di tutto dobbiamo constatare che la guerra sta continuando pienamente addirittura nel nord di israele Hamas è riuscita a lanciare giovedì della scorsa settimana diversi missili raggiunge con 230 obiettivi e quindi con una dimostrazione di capacità di offensive ancora elevate e sotto questo profilo dobbiamo tenerlo conto nell'obiettivo di israele della deradicalizzazione di Hamas dalla faccia della terra ma soprattutto dalla striscia di Gaza. Poi un'altra cosa che è accaduta sono tre ostaggi uccisi dai militari israeliani per errore e quindi sotto questo profilo nonostante la dotazione dell'esercito israeliano del libretto con si dice le maggiori cautele di tutto il mondo nell'intervento militare come dire nei limiti posti ai propri soldati cioè la politica anche dell'avvisare prima degli attacchi per cercare di ridurre il numero dei morti civili dei cosiddetti così così vengono chiamati in gergo militare danni collaterali ma sono veramente notevoli c'è ovviamente anche come purtroppo avevamo previsto sicuramente questo purtroppo ci abbiamo azzeccato cioè che i morti sarebbero stati parecchi dopo quello che aveva fatto Hamas infatti uno dei risultati è che di questo pogrom è che ci sono moltissimi morti civili anche bambini nella striscia di Gaza ecco sotto questo profilo quindi potremmo anche valutare questi effetti come una delle conseguenze dell'attacco di Hamas e potremmo anche pensare se questo attacco in realtà abbia voluto proprio creare una situazione che mettesse in evidenza come Israele non ha altra possibilità che quella di fare la guerra casa per casa e come questa guerra sia una guerra tremenda che comporta un numero sproporzionato per certi versi di vittime rispetto alle 1200 1400 morti nel pogrom del 7 ottobre ovviamente qui siamo invece alla moltiplicazione per 10 quindi siamo a 15 mila vittime circa almeno secondo la macabra contabilità ma pare condivisa e condivisibile da parte delle organizzazioni internazionali dalle Nazioni Unite che confermano questi dati ecco ovviamente questo tipo di diciamo di valutazione mette la figura di Netanyahu al centro però certo la figura di Netanyahu è già criticata criticata per certi versi all'interno di Israele molto come diciamo Mister Security che non è riuscito a garantire la difesa di Israele a difendere Israele da questo attacco tremendo di Hamas e ovviamente l'accusa va anche nei confronti dei servizi abbiamo già detto dell'accordo che è strutturato come possibilità nella liberazione di 40 ostaggi ma questo pare essere ritenuto anche da Israele inutile perché perché già si è visto che cosa è accaduto con la pausa cioè con la pausa di 4 giorni per scambiarsi un po' di ostaggi per consentire agli aiuti umanitari di entrare a Gaza e cioè comunque si è notato che Hamas non ha perso la propria capacità offensiva e quindi da questo punto di vista si teme che un'ulteriore tregua possa consentire a Hamas di riorganizzarsi tanto è vero che se pochi giorni fa ha dimostrato Hamas di riuscire a pensare 230 obiettivi e a tentare con missili e droni dei nuovi attacchi quindi ovviamente la capacità offensiva non è non è calata e altri elementi che si sono manifestati in questa settimana sono il fatto che pare che il direttore dell'ospedale sulla striscia di Gaza attaccato in realtà fosse veramente questo ospedale proprio una base di Hamas con molti terroristi al suo interno con delle zone dedicate a uffici di Hamas con delle zone dedicate agli interrogatori da parte dei prigionieri da parte di Hamas sui prigionieri quindi come addirittura al direttore di come il direttore di questo ospedale fosse in realtà un vero e proprio militante di Hamas in secondo luogo si è visto come si è proseguita una modalità di combattimenti atroce ai bombardamenti israeliani hanno seguito delle tecniche di guerriglia estrema di Hamas con delle bambole riscaldate che hanno attirato i soldati di Israele e poi diciamo ovviamente queste bambole sono esplosive e quindi ci sono dei morti ci sono stati ancora morti di soldati israeliani e come anche ci sia sempre questa tecnica di Hamas di mandare avanti le donne religiose vestite in tutto punto ma anche piene imbottite di esplosivo e quindi anche questo come tecnica che contribuisce a spiegare un po' l'errore dei tre ostaggi uccisi è un errore comunque che sarebbe inspiegabile secondo le tecniche insegnate in questo famoso libretto che dovrebbe educare tutti i soldati israeliani a non fare errori con dei danni collaterali diciamo in più ecco c'è da registrare anche le dichiarazioni di parenti di questi ostaggi alcuni parenti hanno dichiarato in maniera molto pesante la loro voglia di farla pagare ai soldati israeliani che hanno commesso questi errori ripeto questi errori anche alla luce della dottrina del libretto che hanno in tasca e che dovrebbero rispettare che dovrebbe far ridurre al massimo questi effetti che dovrebbero si sono pensati al di là come al di là dell'azione dei militari israeliani dall'altro lato c'è stata anche una madre che ha invece manifestato nonostante la morte di uno dei propri figli come ostaggi per mano dei soldati israeliani ha dichiarato che ama i soldati israeliani e la colpa di questa strage di tre ostaggi uccisi sarebbe di Hamas ecco quindi c'è stata anche una dichiarazione iper patriottica di una madre da registrare che ha per certi versi scusato i soldati israeliani perché ovviamente in questo casa per casa sono con la tensione al massimo e rischiano quindi di fare degli errori gravi concludiamo quindi con il fatto che gli obiettivi di Israele hanno ottenuto 7-10 mila diciamo morti di militanti di Hamas ma i militanti di Hamas sono 20-30 mila e quindi diciamo gli obiettivi l'obiettivo della deradicalizzazione di Hamas da Gaza non è sicuramente raggiunto per ora e dovrebbero mancare mesi alcuni dicono anche forse un anno per concludere la guerra diamo la parola alla regia e riprenderemo subito dopo qualche minuto di consigli e riprenderemo subito